Consuato incontro tra l'Arcivescovo dell'Aquila e il Cardinale Giuseppe Petrocchi, presidente della Conferenza Episcopale di Abruzzo e Molise, il presidente dell'Ordine dei giornalisti Stefano Pallotta con la stampa, un momento importante voluto in presenza per riflettere in prossimità della festa del patrono San Francesco di Sales sul ruolo dei giornalisti, reso ancora più importante nel corso di una pandemia in cui non si è mai smesso di raccontare ciò che si stava accadendo. Numerosi riferimenti al discorso del Papa ai giornalisti che ha invitato a consumare le suole delle scarpe nel proprio lavoro per far capire l'importanza di andare sul posto, di verificare, di toccare con mano ciò che si racconta, il Cardinale ha voluto rivolgere un pensiero alla vicina Marsica, ai soccorritori impegnati sul velino, alla ricerca di quattro disperzi e alle famiglie che attendono e sperano. La missione del giornalista, quindi non solo la professione, rappresenta un ruolo fondamentale in una società democratica che crede nell'importanza della comunicazione. La pandemia rappresenta un evento drammatico che va letto con attenzione, che va compreso e vanno aiutate le persone a muoversi con efficacia dentro questo corso calamitoso. Noi speriamo nel miracolo e accompagniamo il lavoro di tutti i soccorritori con una preghiera continua e siamo accanto alle famiglie di cui intuiamo il dolore immenso. Quindi non possiamo che dire anche a nome della Chiesa Aquilana che lì ci siamo anche noi. La Chiesa è un interlocutore fondamentale per i giornalisti ed è una delle protagoniste della dialettica nella sfera pubblica italiana, ha detto il presidente Pallotta, ricordando il grande impegno dei giornalisti, soprattutto in questo periodo di pandemia, come del resto in altre occasioni che hanno toccato la città e non solo. Siamo sempre in prima linea perché noi siamo i testimoni della realtà, i testimoni dei fatti, per cui voglio dire che il nostro è un ruolo così esposto sotto il profilo della ricatuta sociale che anche il fatto che i giornalisti debbano rientrare in qualche modo nelle categorie prioritarie per quanto riguarda la campagna di vaccinazione io credo che sia un elemento che abbiamo sottoposto alle autorità regionali su cui riflettere. Insomma, siamo assolutamente sul fronte, siamo assolutamente in prima linea nel raccontare le cose e se non ci fosse il nostro racconto, la nostra narrazione giornalistica, probabilmente le cose andrebbero in maniera molto diversa di come stanno andando. Grazie a tutti.